Restano varie le località in attesa di tamponi nel Cilento. Nella giornata di ieri, infatti, non si erano registrati nuovi contagi nella città di Agropoli, ma nella mattinata di oggi un nuovo caso positivo ha ribaltato il bilancio che si era fermato a 37 casi con una nuova persona positiva in città. Si tratta di un contatto stretto relativo all'ultimo caso positivo in ordine cronologico per quanto riguarda gli esiti dei tamponi registrati ad Agropoli. La persona in questione fortunatamente era però già in isolamento. Ora bisognerà tracciare nuovamente tutti i suoi ulteriori contatti stretti che ha avuto negli scorsi giorni per procedere poi eventualmente ad ulteriori tamponi. Attesa invece per Castellabate, dove il caso della persona proveniente da Roma ha suscitato non poche polemiche. Il soggetto, che ora si trova nella capitale, ha partecipato ad un pranzo battesimale proprio a Castellabate sabato scorso. In seguito al riscontro della sua positività al virus dopo il suo rientro a Roma, sono state poste in quarantena fiduciaria 23 persone residenti nel comune cilentano, le quali domani saranno sottoposte a tampone presto il reparto USCA dell'ospedale civile di Agropoli. A Pesciotta terminati i tamponi e quindi chiuso il cerchio dopo lo screening di massa, nel quale sui 130 tamponi sono state riscontrate quattro positività al covid, che hanno portato i contagi a 21. Notizie quindi migliori rispetto a quelle arrivate ultimamente dal paese costiero del Cilento, che ha subito un brutto colpo nel periodo più importante dell'anno per le attività. Due casi anche a Centola, capoluogo, annunciati dal sindaco Stanziola nella giornata di martedì. Si tratta di un'anziana di Napoli, ma residente a Centola, fuori dal centro abitato, e della sua badante di nazionalità ucraina, isolamento per entrambe e tamponi disposti per i loro contatti. Nel Cilento però ci sono anche situazioni più confortanti, come il falso positivo a Stio, l'uomo ricoverato all'ospedale di Scafati, risultato positivo al primo tampone, positività poi smentita dal secondo esame, ma anche i tre casi di Casalbelino e i sei di Capaccio Pestumo sulla via della guarigione dal coronavirus. Buone notizie giungono stamane anche dal sindaco Ferdinando Palazzo sul caso della consigliera comunale di San Giovanni a Piro, che è risultata negativa al terzo tampone, al quale era stata sottoposta nei giorni scorsi. La nostra consigliera non è mai stata affetta da Covid-19, si è trattato di un caso di falso positivo, ha sottolineato il primo cittadino. Per adesso la situazione è la seguente, 21 casi a Pisciotta, 6 casi a Capaccio Pestum, 6 ad Agropoli, 3 a Casalbelino e 2 nel comune di Centola. Questo il bilancio attuale per il Cilento.